Anche le imprese di piccola e media dimensione, anche se hanno meno di 10 dipendenti potrebbero partecipare. Ovviamente è anche destinato questo bando, a differenza della legge 181 che è la parte nazionale dell'ADP Merloni. Questo è un bando che consente di finanziare dei progetti di minore entità, perché vanno dai 150 mila euro ai 2 milioni di euro, anche da parte di micro e piccole imprese. Tendo a sottolineare un'altra particolarità, che le imprese che partecipano non debbono essere obbligatoriamente società di capitali, come vuole la legge 181, ma possono anche essere imprese individuali, società in regime semplificato, quindi non debbono essere regime di contabilità ordinaria. Quindi questa è una cosa molto importante, specificata nel bando. Molto importante, esatto, perché va a comprendere tutte le imprese.